super sfiziosi e super filanti dai prepariamoli insieme tagliamo il pane a misura poi lo appiattiamo con il mattarello lo sistemiamo nello stampo per muffin e poi li farciamo io ho utilizzato scamorza e prosciutto cotto poi li cuociamo nel forno a 180 gradi statico per circa 15 minuti e voilà ciao